Archiviata la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche, la San Cataldese cerca riscatto in Calabria, sul campo del Cittanova. Incontro previsto domani, mercoledì 27 alle ore 15. Un turno infrasettimanale che arriva dopo una lunga sosta. L'avversario è reduce da un pari a reti inviolate a Daci Reale. La partita si preannuncia difficile, ma la San Cataldese non può concedersi ulteriori battute d'arresto dopo l'eliminazione della Coppa Italia e il capitombolo casalingo ad opera del Sant'Agata. C'è fiducia e aria di ottimismo attorno alla squadra allenata da Matteo Vullo. Anche i tifosi guardano con serenità al futuro, consapevoli della qualità della rosa. Ma adesso occorre fare punti, anche in vista del derby di domenica 2 ottobre al Valentino Vazzola contro il Canicattì. Un confronto ricco di precedenti anche in eccellenza con le due tifoserie gemellate da tempo. Il quadro completo delle partite della seconda giornata. Canicattì-Aci Reale, Sant'Agata-Realla-Versa, Cittanova-San Cataldese, Paternò-Santa Maria-Cilento, Mariglianese-Ragusa, Vibonese-Licata, Castrovillari-Lamezia, Catania-Sanluca, rinviata al 12 ottobre, Locri-Trapani.